Nel precedente episodio di Esplorazioni Pokémon, Chloe ha fatto ritrovare a Krisa due amici molto cari che la aiutarono in un momento difficile della sua vita, specialmente uno Psyduck molto particolare. Nella prima parte dell'episodio 58, i membri del Team Rocket sembrano essere molto stanchi e si stanno riposando nella loro base, mentre Pelipper, usando la sorpresa Rocket, la manda in tilt e iniziano ad uscire tantissimi Gulpin. Mentre Ash e Go scherzano nel bosco, incontrano proprio i Gulpin, che si attaccano ai ragazzi e non ne vogliono sapere di scollarsi. All'improvviso si imbattono in un enorme gruppo di Gulpin che finisce per formare una grandissima palla gigante che ingloba tutto ciò che incontra lungo il cammino, tra cui addirittura uno Snorlax. Tutto questo mentre il professor Cerasa e Krisa osservano la situazione dal laboratorio, con Ren che invece filma tutto dal vivo. La palla gigante di Gulpin, che aveva anche inglobato un Alakazam, arriva proprio nei pressi del laboratorio Cerasa, e grazie a un consiglio del professore, Ash e Go riescono a salvare in tempo la situazione. Nella seconda parte dell'episodio 58, il Team Rocket è ancora stanco, e Miao è ancora incastrato nella sorpresa Rocket. Se ne accorge Wobufet, che fa uscire una Pokéball dalla macchina, chiamando fuori Chutol. I due, insieme a Miao, iniziano a girare per la città, incontrando presto un Tartwig che sembra voler sfidare Chutol ad una gara di corsa. Durante la sfida, si inserisce a sorpresa anche un Torkoal, che dà fastidio ai due partecipanti, con una sua nube di fumo. Ma Chutol e Tartwig quasi lo ignorano, continuando imperteriti la loro sfida, e dimostrandosi anche rivali leali tra loro. Incontrano anche altri Pokémon Tartaruga, come Tirtouga, che va però a sbattere contro un muretto. Tartwig ad un certo punto cade a terra stremato, con Chutol che si accorge delle sue due foglie sulla testa appassite, e per questo usa una mossa di tipo acqua per ridargli vigore. Il Pokémon di tipo erba, davanti alla generosità dell'avversario, si dimostra più che riconoscente, ed entrambi decidono di portare comunque a termine la sfida. Durante l'ultimo tratto, si uniscono a loro anche altri Pokémon Tartaruga, finché non appare un uomo anziano che sembra essere un maestro di quel tipo di Pokémon, richiamandoli tutti a sé, tra cui Tartwig, con Chutol che in teoria vince la sfida. Nel prossimo episodio di Esplorazioni Pokémon, Grookey farà la sua apparizione al Laboratorio Cerasa, e il Team Rocket non si farà sfuggire l'occasione di rubarlo. Per scoprire cosa succederà, appuntamento a venerdì prossimo, con il nuovo in sintesi di Esplorazioni Pokémon. Grazie a tutti.